Alcina Aisconi Carolina, Tatami Di, Meloni, Sharon Cintura Bianca, Vince Bondi Claudia, su Tatami, lui è Eugenia Berzella Valeria, prossimo incontro da Tatami Di, si preparano Macri Trezzari, Boss, da Tatami Di, mi steady, vuole Imperium di Darwin, ho regionale, ma parto di diffremo attuazione scoperta della estern parlé inzyć a la sua famiglia! Grazie a tutti. Vince Carnozza Federica. Sul Tadami, per la finale terzo posto, sostanza chilogrammi, Ercolani, Tiziana, Sampieri e Veronica. Vince Lanni Sara, sul Tadami, Bodo Alice e Bava Erdin Moa. Si preparino per la finale di pool Giordano Valeria De Gasperi Francesca. Si preparino finale terzo posto, 70 chilogrammi, Carozza, Letizia e Balsano Valeria. Grazie. 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 Grazie.